Una delle caratteristiche fondamentali di questa Rolls Royce Ghost Black Badge è Eleanor, lo Spirit of Ecstasy, la statuetta più famosa del mondo sul cofano delle Rolls Royce che evidentemente è in tonalità nera. Il nero particolarissimo che fa risaltare ancora di più questa particolarissima Rolls Royce Black Badge che è il simbolo dell'opulenza e del lusso estremo della casa britannica. Tra l'altro questa Rolls Royce Black Badge può essere richiesta in 47.000 tonalità diverse. Un'altra delle caratteristiche è la cosiddetta lemniscata algebrica, ossia questo simbolo dell'infinito che è il simbolo proprio delle vetture Black Badge. Altra caratteristica è colori invertiti, quindi non nero su fondo argento ma argento su fondo nero. Tutto in questa Rolls Royce Black Badge ci parla di lusso e prestazioni estreme. Il motore chiaramente è un V12 6.75 da 600 cavalli, cerchi maggiorati, ovviamente bicolore, argento e nero e soprattutto in un materiale particolarissimo fatto di fibra di carbonio e lega d'alluminio. Vediamola nell'interno, ecco in questo caso c'è questa particolare fascia rossa che è stata richiesta dal cliente, rosso che è anche ripreso all'interno. Chiaramente i clienti possono scegliere che tonalità preferiscono all'interno della loro vettura e qui chiaramente si parla del lusso Rolls Royce. I mancabili dettagli più preziosi, l'ombrello e la chiusura elettrica. Bye bye!